eccoci qua amici del canale allora un piccolo video per ringraziarvi tutti ma proprio tutti e dei risultati ottenuti in questi diciamo tre mesi circa tre mesi grazie a voi che mi avete dato fiducia vi devo ringraziare sono troppo contento per tutte le amicizie che ho stretto tutte le persone nuove che conosciuto il mio canale vedete come avete potuto vedere non ha un argomento fisso parla di tante cose si va si va un po a casa non a casa lo stavo sbagliando si va un po così a momenti emotivi diciamo ecco c'è un po di tutto insomma quindi molti video dei miei cani un po di tradizioni sarde curiosità e altre cosettine spero che vi piaccia per adesso pare che vi stia piacendo c'è un po di tutto sono anche filmati vecchi quelli che ho messo tanti anni fa quando ancora al canale non avevo nessuno iscritto ma ci sono tutti i miei cagnolini a chi li vuole vedere questi sono i primi che ho messo proprio guardate dodici anni fa quindi il canale è vivo da tre mesi però diciamo è da tre mesi che lo sto tenendo vivo quindi chi ha piacere lo può fare ok ce li può vedere tranquillamente ma vi ringrazio sono troppo contento guardate che risultato in tre mesi di lavoro adesso voglio fare un ringraziamento particolare siccome ci sono molti iscritti brasiliani e questi brasiliani sono dei siti assurdi che mi piacciono tantissimo specialmente quelli che trattano di pietre che vanno a cercare pietre preziosi o pali pietre verdi diamanti proprio un mondo che mi affascina infatti voglio sapere in sardegna dove posso andare a cercare non per trovare diamanti logicamente perché magari neanche ce ne sono per trovare pietre interessanti dopo controllo su google e vedo cosa trovo quindi ai brasiliani voglio mandare quel saluto in particolare voi italiani ve lo ho mandato lo capite adesso lo mando in brasiliano logicamente io il brasiliano non lo parlo perché sono italiano e quindi cosa c'è per parlare il brasiliano c'è questo qui c'è google traduttore di google ok adesso li mandiamo i saluti ai brasiliani una saudazione poetica di sergio a todos os amigos do brasil você é fantastico e possui canais incríveis uma saudação para você da sardegna ok ci treva salutargli gli amici brasiliani e adesso saluto anche voi ciao un abbraccio un bacione a tutti ciao 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 ciao